e meno 49 hanno fatto solo un giro a 10 chilometri ad eliminazione Felix Reinen davanti poi Jason Sattos mi sembra lui in seconda posizione passa anche Bart Fink adesso il passaggio sono partiti belli sparati 16 e 65 quel giro appena concluso anche quello precedente era leggermente più lento adesso è sempre il record man dell'ora che si è portato davanti e tiene alto il ritmo quando suona la campana 16 e 95 questo giro sempre ben sopra i 40 chilometri number 282 first warning 282 first warning eliminazione di meno 15 doppia eliminazione double eliminazione 281 e 100 281 stop skating please 281 another double eliminazione now un'altra doppia eliminazione numero 7 and number 8 numero 7 numero 8 next one will be the last double elimination la prossima sarà l'ultima doppia eliminazione questa sarà la dernière double eliminazione quindi eliminazione doppia doppia eliminazione double eliminazione now number 6 and number 36 number 6 and 36 thank you very much number 270 first warning 270 first warning intanto siamo già arrivati a meno 39 abbiamo percorso due chilometri ad una velocità notevole capitato are ready to the bell of number thirty-eight. Faltan trenta e oggi vueltas. Indra Medar in testa del gruppo sono i tre belgi ma è eliminazione di meno trentasette. Eliminazione. Due hundred and thirty-six, two, three, six, eliminated. Two, three, six. Thank you. Sempre il belgio davanti con Felix Heinen che si number twenty-nine first warning, twenty-nine first warning. Sempre il belgio davanti ma siamo alla eliminazione di meno trenta e cinque, si va ad una velocità impressionante, eliminazione. Number thirty-nine eliminated, number thirty-nine from Great Britain. Samuel Morris eliminated. Campana di meno trenta e quattro, sempre Indra Medar davanti. Number seventy-nine first warning, seventy-nine first warning. And now it's the Belgian train now and it's elimination time, minus thirty-three, eliminazione. Number thirty-two. Nils Buhnemann. Nils Buhnemann. Dankeschön Nils. Sempre davanti il belgio poi la Francia. Prova Abramante ad infilarsi. Vi salutano, salutano la giuria. Eliminazione di meno trentuno. Elimination now. One more elimination. One forty-three. One forty-three. One forty-three. Eliminated. Centoquavantatre. Michal Procoppa. Stop skating. Michal. Thank you, Michal. But we are ready for the elimination. Minus twenty-nine. Mancano ventinove giro. Il gruppo è ancora abbastanza nutrito e bisogna ancora eliminarne tanti e uno lo elimineremo qui. Meno ventinove. Two thirty-seven. Two three. Seven. Eliminated. Yorian Tenkate. Tenkate. Eliminated. Two thirty-seven. Siamo a meno ventotto. Yorian. E siamo già all'eliminazione di meno ventisette. Siamo quasi a metà gara. Sono passati sei minuti e trenta secondi. Il ritmo è forse nato. Eliminazione di meno ventisette. One twenty-five. One hundred and twenty-five. Centoivente e cinco. Antonio Freitas. Stop skating. Obrigado. Obrigado. Obrigado Antonio. And twenty-six laps to go. And the next will be another elimination. Siamo a metà gara. Siamo già arrivati a metà gara con poco più di sette minuti sul cronometro. E siamo all'eliminazione di meno venticinque. Sempre il belgio davanti ma teniamo l'attenzione sulla coda. Il whenever venire. Number twenty eight. Eliminated for a fold. Eleminated for a fold. Number twenty eight. Achtungzwanzig. Eleminated. A sunflower. noi non 20 eliminate 29 eliminate for a fault 29 stop skating Felix Reinen Felix stop skating please Felix stop skating for a fault eliminate for a fault intanto abbiamo un'altra eliminazione 170 eliminated 170 170 eliminated Davida Morella grazie Davida tanto si va velocissimi e siamo all'eliminazione di meno 21 numero 124 first warning elimination now 144 eliminated 144 Zdenek sei palla eliminated now e siamo agli ultimi 4 chilometri mancano 20 giri mancano 4 chilometri deve deve tenere duro il nostro Mattia Fioretti che rimane attaccato e c'è l'eliminazione di meno 19 194 eliminated 194 Indra number 272 first warning 272 first warning great team work work from Indra who work for his team and he pushed very hard in the first laps but we are ready for the elimination minus 17 meno 12 bus wings e Jason Sattos davanti ma occhio alla corda del gruppo eliminazione 174 174 eliminated 174 di Spagna eliminazione forza Mattia vai così Mattia Fioretti sta facendo una grande sforzo per rimanere attaccato eliminazione di meno 15 mancano 3 chilometri c'è ancora una eliminazione e Portugal 1,2,3 123 grazie obbligato e Portugal 270 second warning 270 second warning Marco Lira eliminated previously eliminazione di meno 13 201 2,0,1 Cristian Comusa grande prova di Mattia Fioretti grandissimo ha evitato 4,5 eliminazioni di fila siamo alla campana di meno 12 269 first warning 269 first warning eliminazione di meno 11 e la facciamo l'applauso a Mattia Fioretti che number 78 first warning vai Mattia bravissimo e siamo agli ultimi due chilometri di gara we are ready for the two last kilometers of the race but swings Jason settles Livio venga in the first three spots of the group of the pack and now it's elimination nine laps to go meno nove eliminazione di meno nove 272 number 272 victor air è stato eliminato victor air che è uno dei dei più forti a livello almeno a livello di torfei ma siamo pronti all'eliminazione di meno 7 intanto barth sphinx continua a spingere davanti dietro di lui Jason Suttles e poi Livio Wenger poi Bramante ma siamo all'eliminazione di meno 7 eliminazione 124 124 Miguel bravo obrigado Miguel e ora sono rimasti in pochi sono rimasti in pochi davanti però sono sempre loro Marth ultimo chilometro vediamo l'ultimo chilometro l'eliminazione 269 269 no l'anbediaf number 78 second warning passa imprecando martin ferrier è passato imprecando martin ferrier adesso si è staccato un po' cannoni siamo agli ultimi due giri ed è un'altra eliminazione one more number 79 eliminated a questo punto passa ci sono i due belgi è passato davanti Jason Suttles e Bramante ancora quarto ancora quarto ma siamo all'ultimo giro Jason Suttles but swings Livio Wenger e qui siamo all'arrivo Jason Suttles avanti eh sembra lui gli fa un po' da tappo Bart eh ed è lui ed è lui Nihil e e e e e european champion from Belgium Jason Suttles and officially second place also from Belgium Bart swings in i i i i i